Popcorn Lab Mettenne insieme più idee, facendole scoppiettare come Popcorn, unendo diverse attitudini e capacità, è nato Popcorn Lab. Che cos'è Popcorn Lab? Popcorn Lab è un laboratorio multimediale in cui si sviluppano progetti di multimedia, web, grafica e video. All'interno del nostro laboratorio si uniscono menti giovani che lavorano su progetti freschi, frizzanti e che seguono le tendenze del momento.